Che il Signore vi benedica a tutti! Siamo qui ancora una volta riuniti per riflettere, per leggere la parola del Signore, meditare, glorificare Dio, imparare la dottrina. Imparare il cammino del Signore. Così siamo contenti per tutto questo. Desidero che il Signore stia con tutti voi, che Dio vi benedica, che Dio ascolti le vostre preghiere, i vostri clamori, i vostri bisogni, le vostre richieste, che il Signore possa agire e compiere miracoli. Mi sono arrivate delle mail nelle quali la gente mi testimonia che hanno ricevuto benedizioni e guarigioni a distanza. A distanza mi raccontano e mi chiedono di pregare. E a distanza il Signore compie il miracolo su quella persona. Questa è la cosa bella, perché Dio ci sta vedendo e ascoltando. Oggi, come tutte le altre volte, mediteremo nella parola del Signore e parleremo di Dio e della testimonianza che Lui fece circa Suo Figlio, circa il Signore Gesù Cristo, cioè di quando sarebbe arrivato sulla Terra a predicare il Vangelo, a predicare il Regno dei Cieli. Per prima cosa leggeremo in Isaia 42, dal verso 1 al 4. Lì troviamo una promessa che Dio fece per il futuro o per le future generazioni sulla venuta del Signore Gesù Cristo, sulla Sua venuta, in qualità di Suo Figlio, parlando di Lui, parlando di questo Servo, parlando di questo Sommo Sacerdote, Re, Messia, che lo avrebbe inviato alla Terra per stare con gli uomini, con gli esseri umani, insegnando la Sua parola, il Suo Vangelo, affinché la gente credesse e così potesse guadagnare la vita eterna. E abbiamo questa promessa meravigliosa in Isaia 42, verso 1, che dice Ecco il mio servo che io sostengo. Dio stava parlando del Signore Gesù Cristo, il mio eletto, in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di Lui e gli porterà la giustizia alle nazioni. Qui, il nostro padre si riferiva alla persona umana del Signore Gesù Cristo. Aveva posto su di Lui il suo spirito. Noi, infatti, sappiamo che il Figlio di Dio e Dio sono lo stesso. Dio era lo stesso Gesù Cristo e Gesù Cristo era lo stesso Dio che si era fatto in carne ed ossa per andare sulla Terra e stare fisicamente sulla Terra. E la parte fisica di Dio fu chiamato Gesù di Nazareth. E Dio diede a questa parte umana di Gesù di Nazareth il suo spirito, così che porterà giustizia alle nazioni. Due, Egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade. Significa che Lui, cioè Gesù Cristo, non avrebbe fatto pubblicità, non sarebbe stato né orgoglioso, né presuntuoso del suo potere, della sua dignità, dell'incarico o del ministero che doveva svolgere in quei giorni in Gerusalemme e nella Giudea. Anzi, il Signore Gesù Cristo avrebbe predicato il Regno dei Cieli, la parola del Signore, con umiltà. Avrebbe insegnato e compiuto la legge di Mosè con umiltà. Ecco perché dice non griderà, non alzerà la sua voce. Dio stava dicendo questo di Gesù Cristo. Gesù Cristo non avrebbe detto gridando venite, inginocchiatevi davanti a me perché io sono il principale. dovete inginocchiarvi, adorarmi. No, Lui fu il semplice. Lui non avrebbe gridato per la strada, non avrebbe fatto pubblicità di se stesso perché le sue opere e i suoi miracoli e il modo in cui Lui avrebbe agito sarebbe stato sufficiente per guadagnare le anime. Sarebbe stato sufficiente per essere guardato dalle persone perché le persone avrebbero visto in Gesù Cristo la sua importanza e la sua dignità. Quindi Gesù Cristo non doveva farsi pubblicità di se stesso. Verso 3 Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà l'ucignolo fumante. Significa che nella sua umiltà, nella sua misericordia, nel suo amore, Gesù Cristo avrebbe avuto pazienza e misericordia con tutte quelle persone afflitte che stavano soffrendo, che erano umiliate, che non avevano diritto né di voto, che stavano sperando e aspettando Dio. E Gesù Cristo avrebbe aiutato quelle persone. C'erano inoltre tante donne, per esempio nel peccato, come l'adulterio, anche gli uomini. E la legge di Mosè diceva che tutte queste persone che non osservavano i comandamenti della legge sarebbero stati lapidati, morti, castigati, portati in carcere. Mentre il Signore Gesù Cristo cos'è che fece? Insegnò alle persone di non peccare più, faceva loro dei miracoli, li cambiava, dava consigli, orientamenti e diceva loro adesso non peccare più. Queste sono le canne rotte e questi sono quei lucigni lucignoli fumanti. Questi lucignoli fumanti erano come persone che, sebbene vivessero nel peccato, stavano aspettando Dio, stavano aspettando il Salvatore, il Messia, una persona per avere misericordia di loro e così loro poter vivere una vita santa, retta, che Dio voleva. Stavano aspettando qualcuno che li potesse consolare e perdonare. queste erano le persone, le canne rotte e i lucignoli fumanti. Ricordiamoci, per esempio, quando portarono al Signore Gesù Cristo una donna trovata in adulterio e dissero questa donna è stata sorpresa nel lato dell'adulterio e la legge dice che bisogna lapidarla. Il Signore Gesù Cristo disse che guardò verso terra, si inchinò e disse colui che non ha peccato scagli la prima pietra e quando Gesù Cristo alzò lo sguardo vide che nessuno stette lì se non la donna e disse alla donna dove sono coloro che ti hanno condannato? No, Signore, tutti se ne sono andati. Bene, allora nemmeno io ti giudico né ti condanno. Vattene, però non peccare più. Lei rappresentava questa canna rotta. È una canna che sta per morire, ma non del tutto. significava cioè che poteva raddrizzarsi ancora, era storta, sì, ma poteva ancora raddrizzarsi, continuare a vivere e svolgere le proprie mansioni. Questa canna che poteva essere d'avena o di grano era spezzata e qualcuno avrebbe potuto dire sradichiamo questa canna e questo albero che ormai è spezzato, è rotto e invece no. Quella donna, quella canna si raddrizzò e nella sua vita poteva dare ancora dei frutti perché Gesù Cristo la perdonò e le disse vattene però non peccare più. Il lucinio e lo fumante anch'esso era una persona che stava sperando e aspettando un aiuto Gesù Cristo affinché potesse aiutarlo. Ecco, noi dobbiamo imparare anche la forma simbolica attraverso la quale Gesù Cristo insegnava circa il regno dei cieli e la sua parola. Quindi nel verso 3 questo grande servo faceva questo e dice anche presenterà la giustizia secondo verità cioè avrebbe avuto misericordia di tutte queste persone. Avrebbe portato giustizia, sarebbe stato giusto, retto perché in quel tempo i governanti, i principali erano persone che abusavano delle persone, le umiliavano, le condannavano e invece loro stavano peccando, stavano infrangendo la legge, loro predicavano la legge ma non la compivano perché nessuno poteva giudicare loro perché loro rappresentavano l'autorità quindi abusavano del loro potere mentre il Signore Gesù Cristo lui stesso portò la rettitudine e la giustizia. Questa era una parte della predicazione del regno dei cieli. verso 4 parla di questo servo e dice egli non verrà meno e non si scoraggerà finché non avrà stabilito il giudizio sulla terra e le isole cioè i gentili aspetteranno la sua legge. Le isole erano i gentili erano gli stranieri gente delle altre nazioni che un giorno avrebbero creduto nel Signore e anche loro avrebbero ricevuto la benedizione la misericordia e il perdono del Signore quindi queste isole questi gentili aspetteranno la sua legge e infatti con la venuta del Signore Gesù Cristo con l'espansione del suo Vangelo della sua parola tutti i gentili si convertirono si sono convertiti e si convertiranno al Signore gloria al suo nome adesso andiamo a leggere nel libro di Luca capitolo 9 Luca capitolo 9 e qui leggeremo il compimento della promessa della promessa che Dio Padre fece ad Isaia cioè di inviare un servo e di innalzarlo e dice nel verso numero 28 Luca capitolo 9 dal 28 al 36 dice che il Signore Gesù Cristo era con i Suoi discepoli era con tante persone stava predicando insegnando e tra quello che Lui stava insegnando stava anche annunciando che Lui sarebbe partito che sarebbe stato scacciato dagli iscrivi dai farisei dai principali sacerdoti era necessario che Lui morisse per poi risuscitare il terzo giorno ecco il Signore Gesù Cristo stava annunziando questo ai Suoi discepoli e alla gente che lo stava circondando e dopo varie spiegazioni disse che poi sarebbe morto e poi risuscitato e nel verso 28 dice ora avveni che circa otto giorni dopo questi discorsi egli prese con sé Pietro Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare e mentre egli pregava l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante ed ecco due uomini parlavano con lui essi erano Mosè ed Elia vedete che bella esperienza gloriosa meravigliosa che visse il Signore Gesù Cristo Dio Padre lo ha innalzato lo ha innalzato davanti a tutti affinché le persone potessero credere che Lui veramente era il Messia l'inviato da parte del Signore e Lui era con Mosè ed Elia e dice nel 31 i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita chissà come fu questa conversazione meravigliosa tra Mosè Elia ed il Signore Gesù Cristo dice che parlavano della sua dipartita cioè della dipartita del Signore Gesù Cristo che doveva compiere a Gerusalemme or Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno ma quando furono completamente svegli videro la gloria e i due uomini che erano con Lui quindi qui vediamo che Pietro e gli altri apostoli furono testimoni della gloria del Signore furono testimoni della trasfigurazione che il Signore Gesù Cristo ebbe in quel momento com'è che Pietro e gli altri videro Mosè ed Elia insieme al Signore Gesù Cristo Mosè ed Elia morirono secoli prima del Signore Gesù Cristo tuttavia Pietro e gli altri videro la conversazione tra Gesù Cristo Mosè ed Elia vedendo tutta la gloria di questo momento 33 e mentre questi si separavano da Lui Pietro disse a Gesù Maestro è bene per noi stare qui facciamo dunque tre tende questo certo era un privilegio per Pietro stare lì e dice Maestro facciamo dunque tre tende una per te una per Mosè e una per Elia ma egli non sapeva quello che diceva certo Pietro non sapeva quello che stava vedendo era in realtà una trasfigurazione del Signore Gesù Cristo era una visione e pensava che Mosè ed Elia sarebbero rimasti sulla terra ecco perché voleva costruire una tenda per ciascuno di loro ma Lui non capiva 34 e mentre egli parlava così venne una nuvola che li adombrò cioè mentre che Pietro stava dicendo che avrebbe fatto le tende una nuvola li adombrò e i discepoli temettero quando esse entrarono nella nuvola e una voce venne dalla nuvola e qui voglio sottolineare la grandezza del Signore Gesù Cristo e una voce venne dalla nuvole dicendo questi è il mio amato figlio ascoltatelo e quando abbiamo letto prima in Isaia 42 verso 1 abbiamo letto che Dio ha detto io invierò il mio servo e lui sarà il mio amato figlio nel quale io avrò con piacere e lo invierò a predicare a insegnare con umiltà con semplicità lui sarà innalzato e così si compie perché qui in questo verso si compie qui si sta innalzando il Signore Gesù Cristo si sta compiendo la promessa che Dio fece attraverso Isaia circa Gesù Cristo perché lo stesso Pietro e i suoi compagni videro questa meraviglia videro questo prodigio ascoltarono una voce dal cielo dalla nuvola quando Dio disse questi è il mio amato figlio ascoltatelo solamente lui non ce ne sarà un altro anzi sarà l'unico cammino che porterà la vita eterna lui è l'unico cammino il Signore non mostrò un altro essere non parlò di un altro personaggio ma solo di Gesù di Nazareth perciò tutte le scritture da Mosè profeti salmi si parla sempre del Signore Gesù Cristo si parla dei Suoi prodigi delle meraviglie che Lui avrebbe realizzato e che avrebbe realizzato anche dopo la Sua morte dopo la Ressurrezione il lavoro che Lui avrebbe fatto con la Sua Chiesa con i Suoi credenti con i Suoi seguitori l'opera meravigliosa dello Spirito Santo questa è una promessa del Signore perché Dio Gesù in questo caso disse io me ne vado e invierò lo Spirito Santo e noi vediamo che lo Spirito Santo oggi si manifesta nella nostra vita e noi crediamo in Gesù Cristo come il Messia come il Salvatore il Re che Dio inviò sulla Terra inviò nel mondo per salvare le anime per portare le persone alla vita eterna e ripeto nuovamente Gesù Cristo è il Servo di Dio è l'unico cammino che porta la vita eterna è l'unico che deve essere ascoltato non c'è nessun altro non c'è nessun altro libro inoltre che ci possa dare la fiducia la fede che questa è vera è la verità di Dio la Bibbia Gesù Cristo e le sue manifestazioni spirituali sono l'unica verità 36 e mentre quella voce parlava Gesù si trovò tutto solo ora essi tacquero e in quei giorni non raccontarono nulla nessuno di ciò che avevano visto non raccontarono nulla perché furono stupiti e sicuramente non sarebbero stati creduti a raccontarlo ma per loro fu una grande benedizione un prodigio una grande testimonianza che loro più avanti avrebbero potuto raccontare durante l'evangelizzazione di tutte quelle meraviglie che loro vissero quel Signore Gesù Cristo della gloria che videro sul Signore Gesù Cristo e della voce che ascoltarono dal cielo ecco io invito tutte le persone che ancora non hanno letto la Bibbia o sì non la leggono o che praticano anche altre religioni diverse vi invito a leggere la Bibbia affinché crediate nel Signore Gesù Cristo come l'unico Lui è l'unico che ci porta alla vita eterna che ci dà la salvezza l'unico essere non ce n'è un altro che Dio vi benedica grandemente adesso adesso preghiamo Benedetto Dio Onnipotente Padre del nostro Signore Gesù Cristo il nostro Redentore il nostro Salvatore il nostro Re il Messia che doveva venire e che è con noi oggi ti ringraziamo Signore per il tuo amore la tua misericordia le tue promesse meravigliose che tu ci hai detto dal principio attraverso i profeti e oggi noi vediamo compiute queste promesse la tua parola grazie perché godiamo della tua presenza della presenza dello Spirito Santo godiamo dell'amore della misericordia delle benedizioni godiamo delle guarigioni dei prodigi dei miracoli che tu fai nella nostra vita grazie Padre in questo momento ti chiedo di stendere la tua mano potente guaritrice facendo miracoli segnale in tutte le persone malate ci sono inoltre delle persone che sono sottomesse dal diavolo a causa di stregonerie a causa di malocchi maledizioni libera queste persone spezza queste catene questi lacci distruggi l'opera maligna e libera ognuno di loro concedi gioia pace benedici nella parte materiale concedendo sostentamento e tutto il necessario per vivere Signore concedi le necessità tu hai di fronte tutte le richieste di tutti loro grazie Padre concedi benedizioni a tutti nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo figlio amato te lo chiediamo amè gloria e onore al tuo nome grazie Signore adesso cantiamo al Signore il coro numero 145 che si intitola gioisci anima mia Rebosa mi alma de gozo y lor hay canto y sonrisa pues Cristo è mi Signore altri non comprende ni posso ocultare che mi alma con il suo gozo sempre rebosando sta rebosa mi alma de gozo e lor hay canto y sonrisa pues Cristo es mi Signore otros no comprende ni puedo ocultar que mi alma con su gozo siempre rebosando sta gloria al Signore ringraziamo il Signore che Dio vi benedica alla prossima bendito Signore diciamo grazie a tutti